Ciao ragazzi, questo video con l'importanza di un valore che probabilmente non creerà così tanto clamore sui social perché si tende sempre a volere una soluzione rapida, veloce, che funzioni subito e indolore ma che credo sia fondamentale ricordare in tutte le cose della vita e soprattutto che io comincio a ricordare a me stessa perché caratterialmente io questo valore non ce l'ho e sto parlando della pazienza, la pazienza è fondamentale in ogni cosa che facciamo soprattutto se stiamo costruendo un business o se stiamo costruendo il nostro percorso professionale bisogna avere pazienza, non c'è un motivo per cui le cose debbano essere fatte in fretta questo non vuol dire non farle o farle male però la pazienza è fondamentale per cercare di vedere i frutti dei progetti, delle idee sul lungo periodo è importante anche per conoscere le persone con cui si sta lavorando è importante perché senza la pazienza non sapremo mai che cosa c'è dall'altra parte che cosa c'è oltre la nostra frustrazione quindi questo lunedì un pochino più pazienti stop whining